Giovedì 6 luglio in Piazza Martiri della Libertà Teramo torna a giochi senza barriere, evento giunto alla sua tredicesima edizione che il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo insieme alle associazioni e altri enti del terzo settore operanti nell'area della disabilità organizza per favorire la cultura dell'inclusione e sensibilizzare l'opinione sulle tematiche della disabilità, l'insegna della solidarietà e dello sport. Sì, siamo arrivati alla tredicesima edizione, non solo noi ma le associazioni non vedono l'ora di confrontarsi e stare insieme perché il senso è quello, fare rete insieme, divertirsi insieme, non ci saranno nessun vincitore, tutti già hanno vinto, la piazza come sede centrale di questi giochi e i ragazzi veramente si divertiranno con giochi fatti da loro. L'associazione non vediamo i giochi, ci divertiremo dalle otto e mezza in poi con musica, balli e giochi e tanti sorrisi e tante risate. Il senso di questa iniziativa è quello di fare del cuore della città un luogo di festa, gioco, gioia per cui la diversità diventa un fattore positivo di crescita reciproca piuttosto che un ostacolo. Parteciperà come ogni anno anche l'amministrazione comunale? Beh sì, non solo loro, ci sarà anche il prefetto per la prima volta che vedrà questi giochi, quindi tanti personaggi e le autorità che verranno già sanno che c'è un gioco particolare per loro, anzi due giochi particolari per loro, anche lì per scherzare e per stare insieme. Facciamo un invito? Tutti in Piazza Martiri, giovedì 6 luglio alle 20.30, mi raccomando non mancate perché è un evento importante che rientra nel programma della Coppia Interamia e sarà ancora più luminoso perché ci sarete voi insieme a loro.